Andrea Valenzise, portiere della Oreana. Oggi fino alla fine è in vantaggio, poi la rete è giunta proprio nei minuti di recupero. Sì, sì, sicuramente. Oggi era una partita, come si sapeva già dall'inizio, di cartello e è stata molto impegnativa. Cittanova sicuramente lo conosciamo tutti, è una squadra attrezzata sicuramente per la vittoria del campionato. Noi comunque abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita e secondo me il pareggio alla fine è il risultato più giusto. Sicuramente è il risultato più giusto, grazie anche alle tue parate. Tu hai fatto delle ottime parate, soprattutto nel primo tempo, mi pare. Sì, sì, dai. Oggi mi sono fatto trovare pronto più di una volta su qualche occasione, ma è quello che devo fare, aiutare i miei compagni, quindi mi sembra il minimo. Niente, usciamo da questa partita sicuramente soddisfatti e sicuri di quello che vogliamo fare. A un certo punto D'Agostino, attaccante del Real Cittanova, nel primo tempo ha detto con questo portiere, come faccio a fare i gol? È vero, è vero. Con Riccardo ci conosciamo da tanti anni e anche dall'anno scorso perché giocavamo insieme nel Polistena Calcio. Diciamo che lui conosce me e io conosco lui, quindi era un tu per tu oggi. Complimenti ancora. E dove vuole arrivare il Laureana? Il Laureana diciamo che vuole arrivare il più in alto possibile. Poi quello che seminiamo raccogliamo alla fine. Spero il più in alto possibile perché comunque la società non ci fa mancare nulla. Il gruppo, voglio dire, è un gruppo spettacolare. All'Aureana ci troviamo benissimo tutti. Quindi pensiamo partita dopo partita e poi vediamo a fine campionato dove saremo. Grazie. Grazie a voi.